Puffa che barba, tre ore d'anticamera al ministero, anticamera in comune, anticamera al dentista e adesso sapete cosa faccio? Mi faccio un'anticamera, sì ma me la faccio parete per parete Una parete oggi, una parete domani, con Ducotone la mia casa farà un figurone Ducotone, casa bella e sana, che splendore e festa di color giallo, rosso, verde, viola, rosa, nero, bianco, blu, dunque provalo anche tu Tutto il Ducotone da oggi è battericida antimuffa Batterie muffa vi saluto e contro gli insetti in edizione speciale Ducotone con insetticida Un prodotto Montecatini